Ivo Chiesa fu partecipe a un momento importantissimo della mia vita. Nel 1955, dopo un'estate molto difficile, fu scrittorato da Ivo Chiesa per fare la parte di Smirdyakov, un grandissimo personaggio nei fratelli Karalamazov, che la compagnia del Teatro di Via Manzoni, formata da Lilla Brignone, Gianni Santuccio e Memo Benassi e Enrico Vene Salerno, metteva in scena a Milano, al Teatro di Via Manzoni. Cominciamo le prove. Il regista André Barsacche non mi aveva conosciuto, si era fidato ciecamente del giudizio di Lilla Brignone e Gianni Santuccio che mi avevano fatto il provino. Cominciò le prove e non disse praticamente nulla. Il giorno dopo invece mi chiamò Ivo Chiesa e mi disse che purtroppo Barsacche mi aveva protestato. Non mi riteneva giusto per fare la parte di Smirdyakov, tra l'altro parte che io feci interpretare con un grandissimo successo. Naturalmente questo poi provoca un grosso dolore, ma più che altro per il dolore che aveva dato mia mamma. Ivo Chiesa capì questo. E dopo qualche giorno mia madre mi telefonò e mi disse che aveva ricevuto una lettera bellissima proprio da Ivo. L'avevo chiesa il direttore. Me la lesse e in questa lettera Ivo le diceva di stare tranquilla, che avrei fatto una carriera bellissima e che lavoravo con loro per tutto l'anno. Il ricordo più intimo, più umano è la lettera che Ivo mandò a mia madre. Questo è il ricordo più bello che ho di Ivo. Una lettera piena di poesia e di umanità. Grazie Ivo